Carlo Esposito continua la promozione del territorio di Torre del Greco, domani dei tour operator saranno qui in città? Sì, saranno sei, grazie all'iniziativa che abbiamo svolto dalla Borsa Mediterranea del Turismo la Regione Campania ha apprezzato questa nostra iniziativa e ha deciso di promuovere il nostro territorio grazie a questi sei tour operatori internazionali. Che giro farete? Dove andrete? Partiamo dal Vesuvio perché giustamente promuoviamo il Vesuvio, quindi il sentiero che porterà al cratere che è in corso di progettazione e speriamo a breve anche l'esecuzione, poi passiamo a visitare la casa di Giacomo Leopardi, quindi la Villa delle Ginestre, passiamo da un operatore relativo a Valle dell'Urso di fatto, quello che è giochi acquatici e quant'altro, poi nel pomeriggio saremo sul territorio torresi in città, quindi innanzitutto la parrocchia con gli ipogei, poi saremo giù alle Centofontane, faremo un passaggio al Palazzo Baronale, poi al Porto. In questo giro chiaramente promuoveremo anche le attività artigianali perché c'è il museo appunto della scuola a Piazza Luigi Palomba, quindi diciamo faremo un giro abbastanza nutrito per far rendere conto da queste persone cosa si può fare a Torre. Quindi non solo bellezze paesaggistiche ma anche le risorse produttive. Esatto, anche risorse produttive perché poi di fatto c'è anche quello che non è da poco, quindi faremo un giro promozionale sperando che anche i nostri imprenditori del ramo possano mettere qualche punto di acquisto di fatto di prodotti torresi, quindi coralli, cammei, soprattutto quelle che prodotti per sepi, che c'è anche le attività presepiali che è molto importante, quindi insomma c'è molto da fare. Quindi diciamo che l'iniziativa di domani è un punto di partenza per un rilancio turistico vero e proprio. Noi stiamo punzecchiando tutti quelli che dovrebbero fare qualcosa in più per il nostro territorio e speriamo di riuscirci. Gerardo Borriello, parliamo di questa idea invece di un sentiero che anche da Torre del Greco conduca fino al Vesuvio. La cosa importante della giornata di domani con questi operatori turistici sarà proprio quella di poterli portare a verificare con mano quello che potrà essere un flusso turistico ambientale perché loro pianteranno delle piante nelle aree dell'Oasi all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio su un tratto del sentiero. Loro vedranno dove passerà questo sentiero importante e sarà uno dei punti importanti, uno dei flussi importanti che potrà avvenire poi un domani quando la struttura comunale, le strutture degli uffici turistici del nostro comune inizieranno a creare progetti insieme con queste persone. Dopo l'iniziativa di domani dunque quale sarà il prossimo step? Ci auguriamo che possa essere quello di non solo ospitare i buyer turistici ma di realizzare con loro quello che possa essere un flusso. Domenica scorsa abbiamo avuto una presenza di circa 300 bicicletti insieme con un'altra associazione sportiva voglio dire che è stato veramente un bel evento, un bel momento. Sono momenti che attraggono turisti, sono momenti che attraggono tutte le persone che vengono da tutte le parti d'Italia e anche fuori Italia a vedere e a verificare i percorsi del nostro amato Vesuvio.